E tu a ripesca le lettere di questa e viene fuori che a lui non gli piace un certo tipo di mento Dopodichè a ripesca le lettere e esce che lui è un cagnaccio della politica E a ripesca da voto le lettere e esce che lui è un insaccato che non perde mai E che tanto bello